Se credeste a 100 ragazzi perché indossano un profumo, vi sarà molto facile individuare almeno due gruppi. Quelli che indossano un profumo a caso, che gli hanno regalato 12 anni fa e che non hanno ancora finito, e quelli che, detta senza peli sulla lingua, hanno scelto di indossare un determinato profumo per beccare, spesso consigliati dalle amiche. Ora, immaginate di uscire da questi due gruppi e di porvi in un terzo gruppo, dove le parole chiave sono originalità, stile e l'idea di piacere prima a se stessi per poi piacere alle altre o agli altri. Immaginate, in altre parole, di poter avere la certezza di iniziare il vostro primo appuntamento nel verso giusto. Siccome però io, Matteo, non sono Mel Gibson in What Women Want e come tanti uomini spesso non ho la benché minima idea di quello che possa pensare una donna, mi sono lasciato consigliare da Giada e da Martina, le mie fedeli colleghe, su quale potessero essere dei profumi perfetti da indossare durante un primo appuntamento. Ciao a tutti! Se per caso foste invece interessati a sapere quali sono i profumi che consigliamo ad una a lei per un primo appuntamento, vi ricordo che trovate il video sul nostro canale Profumi di Nicchia. Già che siete sulla pagina, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina per essere sempre aggiornati e non perdere nessuno dei nostri video. Partiamo con la prima fragranza scelta da Martina. Ciao Martina, a te la parola. Ciao a tutti, sono Martina, scelto Eau de Minte di Diptyque. Ah beh, un profumo che più di una persona ha definito essere un profumo che sa veramente di uomo. Vero, a me dà proprio quella idea di un uomo super affascinante e sempre elegante in ogni occasione. È come se indossasse sempre una camicia, spesso di lino, d'estate e anche in spiaggia non rinuncia mai al suo stile. Beh, insomma, quello che io non sarò mai. E fra le note che senti, quale ti dà di più questa sensazione di eleganza? Sicuramente mi colpisce subito la testa, molto fresca, con menta e rosa, però probabilmente non è quella che mi fa pensare subito a un uomo sempre elegante e impeccabile. Direi che è più la scia di geranio e paciuli che si percepisce dopo qualche ora che mi fa proprio perdere la testa. Beh, il geranio. Con la rosa, il fiore del vero gentleman. Considerando che qui inodemente la rosa la troviamo sotto forma di ossido, quindi un po' più glaciale, un po' più metallico, possiamo dire che c'è sia la rosa che il geranio e quindi averle entrambe vuol dire che il gentleman è raffigurato da questa fragranza. Ma come ci ha ricordato Martina, quel tocco balsamico di paciuli caldo e profondo, che è in netto contrasto con tutte queste note fresche, è quello che rende Odimintè una fragranza unica, che farà sì che vi incogliate al vostro uomo, sia che sia un primo appuntamento o sia che sia un anniversario di matrimonio. Passiamo alla seconda fragranza e chiamiamo al banco dei testimoni Giada. Ciao Giada! Ciao a tutti! Che fragranza deve indossare un uomo durante un primo appuntamento con te? Intanto per attirare la mia attenzione deve indossare qualcosa di mai sentito, che sia dolce, che sia fresco, sportivo, ma allo stesso tempo che nasconda una vena di eleganza, anche se diversa da quella scelta da Martina nel profumo di Tic Tic. Quindi immagino che nella fragranza che hai scelto non ci sia né geranio né paciuli. Esatto! La fragranza per me perfetta per un primo appuntamento è Isola di Man di Fra Pen, fresco, a tratti pungenti, a tratti più rotondo, fra note di agrume arancioni, arancio amaro, pompelmo, è una nota invisibile di fiore nel cuore che ammorbidisce il vetiver nel fondo rendendolo meno pungente e più moderno. E io se lo devo immaginare sul ragazzo al primo appuntamento me lo immagino mentre lui ancora sulla moto si toglie il casco e mi saluta. E tu morta e totalmente persa di lui. Sì, va solo come prima impressione. D'impatto lo vedrei carismatico, un po' spericolato, ma la combo perfetta sarebbe quella di unirlo al calore che può dare il tipico giubbotto di pelle da motociclista. E allora sì che viene fuori con la sfaccettatura un po' più rude, più selvaggia, che ti fa pensare subito ciao proprio. Vabbè, due ragazze dei gusti diversi ma entrambe con il pallino della fragranza fresca e decisamente maschile. Grazie Marti, grazie Giada per la vostra partecipazione. Tuttavia, se non siete degli amanti delle fragranze fresche e da un primo appuntamento voleste optare per delle note più profonde o più strane, eccovi altri tre profumi per lasciarvi ispirare e soddisfare ogni vostra esigenza. Al primo posto, un po' per gioco, un po' per l'originalità della fragranza, io ho scelto Tantrico di laboratorio olfattivo. Come sempre, giocate anche sul nome, che al massimo uno o due battute per rompere il ghiaccio escono sempre. Ma Tantrico, nome a parte, è una fragranza al sandalo come difficilmente ne avete sentite prima. Intanto, c'è un grande naso dietro, Lucien Ferrero, e questo è già garanzia di avere fra le mani una grande fragranza. Ma quando vaporizziamo Tantrico, intuiamo subito che si tratta di una fragranza complessa, con evoluzioni molto diverse su pelle. C'è chi percepisce più una nota aromatica di salvia, chi più una resinosa verde, chi invece sente del l'oud, anche se non è dichiarato in piramide. Ciò che è certo è che il protagonista della fragranza è il sandalo, o come ci ricorda il naso creatore, la nota più nobile della profumeria, nonché l'olio essenziale più pregiato. Buonissimo. Oltre all'olio di sandalo naturale, che come sanno gli addetti ai lavori è sempre più difficile da trovare nella profumeria di oggi, troviamo un grande mix di note aromatiche e speziate. Dalla salvia sclarea al mio tanto amato Ginepro, alla nota più esotica di Pepe Itimur. Tutte note che contrastano con questo fondo verde, denso e profondo, a tratti quasi ambrato da risultarci quasi cremoso, che ci danno la nota di balsamo diabete presente nelle note di fondo. Aggiungo anche che di solito è un profumo che piace così tanto alle donne, che spesso lo rubano dall'armadio del compagno per farsi accompagnare al suo odore in ogni occasione. La mia seconda scelta è uno dei miei profumi preferiti per la stagione estiva. Pacific Rock Moss di Goldfield & Banks, nonché uno dei pochi 100 ml che non solo ho finito, ma che ho anche ripreso più di una volta. A me piace metterlo quando esco con gli amici o quando la situazione non richiede chissà quali eleganza, e non è nemmeno uno di quei profumi da macho che ho nella mia vastissima collezione. Ma allora perché proporvelo come profumo da primo appuntamento? Perché è immediato, è qualcosa che conosciamo ma con un twist diverso, e lo si percepisce subito, specie se siete giovani e sportivi. Giade e Martina aggiungerebbero anche biondo con gli occhi azzurri. È un profumo come detto giovane, frizzante, confortevole. Confortevole perché non troppo lontano dalle fraganze maschili più celebre oggigiorno. Sui vari forum ad esempio potrete leggere che Goldfield è il fratello lussuoso di alcune fraganze di Versace, ma allo stesso tempo risulta una fraganza originalissima grazie ad un mix di ingredienti super naturali provenienti da una terra lontana come l'Australia, che il naso percepisce immediatamente come diversi. Si tratta di un concentrato, ma non temete, non è uno di quei profumi con il bollino rosso durante il periodo estivo, anzi, per quanto mi riguarda, se volete un sillage che catturi l'attenzione, abbondate senza alcun timore. Concludo dicendovi che anche se non presente in piramide ufficiale, ma rivelatemi da Dimitri che è il creatore del marchio, c'è anche un sottile accordo marino che stranamente su di me non viri in maniera negativa e che rende Pacific Rock Moss uno dei profumi con cui avrete la garanzia di fare una prima impressione memorabile. Per l'ultima fragranza ho dovuto litigare, e non poco, con le ragazze. Mi hanno bocciato tutto ciò che ha la rosa protagonista, mi hanno bocciato le note più dense come il Radio Bombay di D.S. Indurga, ma si sono fatte convincere, anche per la partecipazione di mio padre, da Terrible Teddy, una delle ultime fragranze della linea Portraits di Penaligons. Dimenticate il motociclista di Isola di Man, il Gentleman Dio de Minté, o anche appunto il ragazzo giovane che usa Goldfield. Con Terrible Teddy siamo di fronte ad una fragranza graffiante, e Teddy, come riporta tutta la telenovela raccontata dai Portraits, si diverte a fare strage di cuore, con le sue note piene ma quasi fresche di cuoio, accanto a quelle più dense ed avvolgenti di Ambrox. Metteteci poi un twist di pepi in grado di attivare anche gli animi più assupiti, ed una nota di incenso in grado di sciogliere anche i cuori più ghiacciati, ed il gioco è fatto. Se devi immaginare chi lo porta, mi viene in mente qualcuno il cui sguardo è una promessa a non annoiarci mai, ma è anche rude quanto basta. Io mi immagino di sentirlo addosso ad un maschio come può essere Jason Statham sul red carpet, con lo smoking che dice sono l'uomo elegante che stavi cercando, ma con lo sguardo rude ed accattivante che ci promette mille avventure ad alto tasso di adrenalina. Breve recap prima di lasciarvi. O di mente, sceglietelo se per voi la camicia non è un indumento, è proprio una vera e propria seconda pelle. Isola di Man, se dentro di voi c'è una natura un po' selvaggia, spericolata, nascosta in questa sensazione di freschezza quasi classica. Tantrico, se per voi sedurre vuol dire prima di tutto stupire. Pacific Rock Moss, se siete giovani dentro e ogni occasione è buona per ricordarvelo. Infine, Terrible Teddy, un profumo che se c'è un piccolo Jason Statham dentro di voi è sicuramente la fraganza che va al caso vostro. Queste sono le 5 fraganze che abbiamo scelto per il vostro primo appuntamento. Fateci sapere se siete d'accordo con noi nei commenti e raccontateci quanto per voi il profumo è stato importante durante il vostro primo incontro. Noi vi ringraziamo e ci vediamo al nostro prossimo video. Ricordatevi, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina. A presto!